il centro storico è senza dubbio la parte di città che vanta il maggior valore sia dal punto di vista culturale che economico che sociale in genere esso è stato difeso dalle stanze dei commercianti dei turisti ma c'è un'altra componente che a voce in capitolo in realtà poco salita in superficie ma con tutto il diritto di farlo è quella dei residenti senza residenti il centro storico sarebbe un agglomerato urbano ricco di serrande che si aprono e si chiudono alcune che si chiudono definitivamente senza quell'elemento vitale rappresentato da chi ci abita ebbene anche i residenti ora vogliono far sentire la loro voce si sono costituiti in comitato e intendono essere dei validi interlocutori con l'amministrazione comunale questa mattina hanno convocato una conferenza stampa e hanno esposto le loro necessità gli obiettivi e le richieste con la convinzione che un centro storico in cui si vive bene è accogliente per tutti siamo un quartiere come tanti altri e con questa amministrazione con la quale ci siamo relazionati in questo anno con i singoli assessorati abbiamo visto che non abbiamo ottenuto risposte siamo 3080 residenti e non veniamo assolutamente considerati quindi vogliamo essere una categoria ben precisa la categoria dei residenti e su questo abbiamo vari progetti soprattutto vorremmo essere presenti nelle decisioni delle modifiche delle piazze delle modifiche della viabilità nella ztl in tutte queste grandi decisioni si è parlato di togliere le piazze in lastricati vuote durante la giornata che danno possibilità a certi movimenti del quotidiano come sta accadendo in piazza amiani e far vivere solo la notte con la movida non sono assolutamente contro la movida però questo genera tutto un altro mondo problema dell'ordine pubblico è un problema emergente nel centro storico questo è uno dei problemi che mettete alla attenzione dell'amministrazione comunale lo mettiamo in attenzione nell'ultimo periodo inizialmente non eravamo partiti per questo perché c'era anche il discorso del limite sonoro l'inquinamento acustico è nato molto da questo perché ha portato a parti della città di privarsi totalmente di parcheggi durante la notte per i residenti ma questo abbiamo abbiamo visto come ha creato delle delle battaglie fra gruppi fra bande in vari luoghi della città andando sul concreto una delle richieste prioritarie quale sarebbe rispettare la cultura dell'abitare questo tengo molto in questo c'è tutto c'è il parcheggio c'è la qualità della città il decoro è stato completamente abbandonato certo si parla di decoro in quanto spartitrafici floreali ma non è questi decoro il decoro sono queste mura dietro di dietro di me tutti i monumenti architettonici vanno rispettati e cosa va rispettato soprattutto la qualità il rispetto del silenzio perché l'architettura il mondo museale questi spazi qua non possono essere trasformati in altro non voglio usare il termine discoteche perché comunque secondo me devono esistere anche loro però non possiamo dentro la corte malattestiana aprirla e crearci tutt'altro che la sua funzione che è un museo